Siamo ad amici di Brugge 2010 con Fabio Turzi che è lo Scientific Specialist di CARE. Gli chiediamo quali sono le ultime novità della CARE. Grazie al continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo, la CARE recentemente ha introdotto due materiali che rappresentano sia un'innovazione che una rivoluzione per quanto riguarda i materiali compositi e le matrici. Il primo di questi materiali è il Vertis Flow. Si tratta di fatto del primo composito fluido totalmente autoadesivo che non richiede l'impiego di un protocollo separato per quanto riguarda l'adesione. Questo è dovuto grazie alla presenza di esclusivi monomeri acidi al suo interno che hanno la capacità di instaurare un legame chimico di tipo ionico con gli ioni calcio e il substrato dentale e questo consente sia di velocizzare notevolmente le procedure di restauro sia di ridurre drasticamente la sensibilità post-operatoria. È un materiale molto versatile che può essere utilizzato come sottofondo per cavità di prima classe, come sottofondo di cavità per seconda classe, come materiale da restauro per prime classi e per le sigillature. Grazie a queste caratteristiche il materiale rappresenta soprattutto una valida alternativa ai materiali vetronomerici che vengono spesso utilizzati dagli odontoiati soprattutto in pedodonzia perché rispetto a questi ultimi il materiale offre dei risultati estetici e delle prestazioni cliniche nettamente superiori. Un altro aspetto innovativo e davvero rivoluzionario di questo materiale è la possibilità di impiegarlo per quanto riguarda le riparazioni intrali della ceramica. Anche in questo caso il materiale non necessita dell'impiego di silani, di primer o di acido fluoridico ma può essere applicato direttamente sulla superficie da riparare anche se c'è del metallo esposto. La seconda novità molto interessante è costituita invece da delle esclusive matrici metalliche per posteriori, il cui nome commerciale è Metafix. La caratteristica principale di queste matrici è quella che sono dotate di un sistema integrato sia per quanto riguarda il tensionamento che la rimozione della matrice. Questo sistema di tensionamento e questo sistema di rimozione non prevedono l'impiego di strumenti ausiliari quali ad esempio dei puntali avvolgitori e delle tronchesine e questo oltre a velocizzare le operazioni consente anche di assicurare un comfort maggiore al paziente. Non solo perché sono dotate di un'esclusiva forma bombata e di un esclusivo profilo anatomico che consentono di realizzare un punto di contatto perfetto in qualsiasi situazione di impiego e assicurano quindi all'autoriata dei risultati costanti e predecibili anche nel tempo.